ciao amici bentornati alle recensioni canale del paulino 1 oggi lg lg che continua con la sua nuova gamma l l7 modello di fascia media molto interessante ne parleremo in questa recensione ho avuto modo ieri di provarlo 10 minuti devo dire tranne la discorsa autonomia perché non potendo potendola avere per una giornata non so esattamente sono stato a quello che mi è stato riferito per il resto l'impressione è stata molto buona di questo device di fascia media incominciamo con questo design molto molto richiamante l l3 che è il modello entry level ingrandito diciamo un l3 ingrandito quindi con queste diciamo spigolature sopra e con queste linee essenziali sotto senza la spigolatura quindi questo diciamo un form factor doppio sopra con delle spigolature sotto con delle linee essenziali tasto fisico centrale i due soft touch laterali richiamo menu e tasto indietro sensori di prossimità sensori di luminosità e cam frontale lato destro pulsantiera per il volume più o meno sopra abbiamo l'entrata per le cuffie da 3,5 jack standard accensione spegnimento stand by e sotto ricarica micro usb pesa 122 grammi per 125 mm d'altezza 67 solo 8,7 mm di spessore on board troviamo una batteria da 1700 mAh che a detta delle leggi garantisce due giorni ad uso intenso quindi l'autonomia è sicuramente uno dei punti più forti di questo telefono e io come ripeto sull'autonomia non mi posso ancora pronunciare almeno finché non avrò il telefono e farò la video recensione per quello che riguarda comunque la potenza della batteria sicuramente elevata e quindi sicuramente supera tranquillamente la giornata l'autonomia di questo smartphone troviamo un processore single core ARM V7 con una memoria RAM di 512 MB è un processore da 1 GHz ovviamente on board quindi diciamo uno standard per quanto riguarda questi modelli di fascia media colore bianco o colore nero 122 grammi di peso quindi leggero compatto e sicuramente molto sottile e bello esteticamente quindi questi sono i primi punti diciamo di forza di questo smartphone per quanto riguarda connettività bluetooth 3.0 a gps e wifi ovviamente presenti tutti i sensori dal giroscopio all'accelerometro quindi si presenta sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda la tecnica di questo di quello che è lo smartphone in sé per sé andiamo ad analizzare magari qualche foto per renderci conto anche meglio del suo del suo form factor che a me piace molto la nuova gamma di LG devo dire molto elegante e anche quest'anno LG sta partendo col piede giusto e proponendo dei telefoni interessanti è in uscita anche in Italia avremo e potremo averlo la cam è una 5 megapixel con flash led autofocus gira video non in hd ma 640x480 quindi questo diciamo è il difetto che però noi come sempre dobbiamo pagare quando troviamo un modello di fascia media per avere un rapporto qualità prezzo ottimo qualcosa sempre purtroppo dobbiamo rinunciare anche se con una buona fotocamera e un bel flash led facciamo delle ottime foto e dei video diciamo sufficienti per quello che possono essere le esigenze di tutti i giorni i materiali sono in plastica però sono buoni buoni qui dietro c'è questo diciamo questa cover back cover in rigatura una plastica rigata ma comunque bella al tato si fa impugnare bene il telefono risulta leggero quindi maneggevole non presenta scricchioli quindi compatto e ben costruito si usano molto le plastiche per alleggerire gli smartphone oggi troviamo l'altoparlante di sistema viva voci qua sul retro magari appoggiandolo su superfici soffici possiamo soffocare un po' l'audio stiamo attenti magari a non mettere né le dita né appoggiarlo appunto su superfici che possono dare fastidio all'audio proseguiamo magari con qualche fotografia così lo possiamo ammirare meglio gorilla glass ovviamente 480 per 800 pixels a 16 milioni di colori capacitivo multi touch gorilla glass questo è lo schermo densità di pixel è 270 ppi quindi elevata anche la densità per pixel elevata la luminosità e anche la risoluzione è buona non è in hd ma lo schermo veramente nitido 4,3 pollici quindi una bellissima unità che ci permette di navigare nel web e di condividere il lavoro di tutti i giorni mail foto e usabilità del telefono e anche la parte telefonica ottima sia nel bivavoce sia nella chiamata è veramente nitido non presenta scriccoli l'audio quindi da questo punto di vista abbiamo un'unità molto soddisfacente il discorso appunto dello schermo nonostante non sia un hd come sempre l'egici abituato è uno schermo ottimo ve lo posso garantire vedete anche qua abbiamo altre immagini anche del nostro meteo ovviamente monta la versione android ice cream sandwich 4.0 on board di serie quindi partiamo già con il telefono aggiornato poi in futuro sicuramente sarà aggiornabile alle versioni successive di android vedete questa linea molto richiamante l'l3 ma molto elegante e bella ecco qua possiamo vedere magari anche la fotocamera da dietro immagine del flash eccola qua è arrivata vedete queste satinatura questa zigrinatura che c'è dietro che vi dicevo per andare sulle specifiche tecniche quad band umts hs dpa 7.2 megabit per seconda in download no upload quindi non hs upa quindi questo può essere anche qui come vi dicevo qualcosa qui dobbiamo comunque rinunciare però implementa la tecnologia nfc per i pagamenti con i dispositivi abilitati quindi questo è già un punto importante che secondo me il telefono ha perché avere comunque l'nfc in un modello di fascia media è già un punto molto importante a favore dicevamo appunto delle misure la possibilità di collegarlo tramite usb ovviamente high speed 2.0 poi parliamo anche della memoria interna a 2 giga e 72 espandibili però a 32 gigabyte con l'sd ma abbiamo comunque 2 giga e 3 già on board quindi sia una memoria sufficiente per partire sia un'espandibilità con l'sd con le micro sd fino a 32 gigabyte quindi anche da questo punto di vista con i 32 gigabyte di espandibilità abbiamo comunque un'unità soddisfacente anche da questo punto di vista andiamo ad analizzare ancora qualcosa se ci può essere sfuggito vabbè contenuto della confezione sicuramente standard minimale batteria caricabatteria auricolare sarà in ear probabilmente nella confezione che ho visto io non c'era l'auricolare quindi non vi so dire ma penso che forse un in ear lo possono mettere o sennò cuffie standard il tag nfc ne parleremo forse avete già visto che cos'è il tag nfc sono delle tag dove noi facendo riconoscere al telefono le immagini possiamo abilitare delle funzioni di dispositivi anche in casa nostra o dove ci troviamo ma ne parleremo magari anche sul blog e sul sito io adesso tirerei le somme per questa recensione di questo l7 che secondo me è un telefono molto molto interessante lg procede con questa nuova gamma con una linea bella con delle caratteristiche tecniche di primo ordine l'unica cosa che mi ha lasciato un pelo perplesso è il prezzo 319 euro annunciato a mio modo di vedere se lg vuole fare centro con questo telefono deve fare un prezzo molto democratico visto l'aggressività del mercato visto il momento di crisi che c'è comunque in giro un po' in europa soprattutto in italia e visto anche l'ampia gamma di tante case anche più piccole che propongono molti smartphone entry level e di fascia media sicuramente un prezzo tra i 220 e i 249 euro sarebbe sicuramente un must da avere perché il telefono merita si presenta bene leggero, compatto, bello schermo usabile ha qualche caratteristica come la non ha i video in HD o magari non troviamo qualche caratteristica magari di on board ma si sa che per avere comunque questo prezzo qualcosina bisogna rinunciare ma non sono cose comunque diciamo che possono pregiudicare l'acquisto di questo bel telefono che a mio modo di vedere ha solamente un incognito che il prezzo sia veramente alla portata di tutti grazie ancora per essere stati con me e con le recensioni ci vediamo sul canale e sul blog da Paolo alias Depolino 1 è tutto ciao alle prossime e grazie